Presidente, ha detto la nota di Palazzo Figgio... ...nel condannare le violenze espresse dagli anarchici nelle manifestazioni di questi giorni... Non ho capito, mi perdoni se mi puoi... Non è stata, secondo lei, un'unità politica nel condannare le violenze espresse dagli anarchici nelle manifestazioni di questi giorni contro 41 bis e in difesa di cospito? Beh, sicuramente mi pare che non tutti abbiano la stessa sensibilità, nel senso che io ho visto anche tanti che dicevano... Ho letto addirittura ricostruzioni, francamente, insomma, a mio avviso lunari, che dicono che di fronte comunque a auto che saltano, dei funzionari dello Stato eccetera, il governo faccia un allarmismo su un pericolo che non esiste per magari giustificare in futuro provvedimenti di restrizione delle libertà. Io non so in quale film di fantascienza alcuni vivano, penso semplicemente che su alcune cose le istituzioni sarebbero invece, no, compattamente, insomma, dire da che parte si deve stare. E sicuramente su questo ci sono sensibilità diverse, ma questo non cambia la mia sensibilità, la sensibilità del governo, dello Stato su questa materia. Credo che, come ho detto, insomma, uno Stato serio, normale, non debba scendere a patti con chi lo minaccia. E questo vale per tutti, vale per la mafia ieri e vale per gli anarchici oggi, se gli anarchici pensano che facendo saltare le auto di qualcuno lo Stato indietreggerà, non sarebbe un buon segnale. Ma è un pericolo che poi si allarghi anche magari altri strati della città, questa tensione? Ma io spero di no, insomma, non credo, spero di no, ovviamente noi stiamo monitorando, facciamo il nostro lavoro, facciamo del nostro meglio per ovviamente prevenire dove possibile i fenomeni. Però rispetto, penso che la postura complessiva delle istituzioni in questo possa fare la differenza, no, che non bisogna fare l'errore di pensare che magari, diciamo, per fare politica, e ripeto, lo dico a tutti, a 360 gradi si debba utilizzare un tema del genere perché è molto delicato, ecco, è molto delicato. Non voglio fare allarmismo ovviamente, voglio solo dire, è importante che tutti focalizziamo, insomma, no, da che parte è giusto stare.